Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col Meteor di TV6. L'alta pressione sub-tropicale dominerà ancora su buona parte d'Italia ad inizio settimana, pertanto ci aspettiamo ancora cieli sereni e clima da piena estate al centro e al sud. Un netto cambiamento arrivare invece al nord, qui subentrerà aria più fresca alle alte quote che darà luogo a forti temporali da prima sull'arco alpino, successivamente anche in pianura padana, specie tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto. In Abruzzo inizio di settimana ancora pienamente estivo, avremo di fatti cieli sereni specie al mattino e temperature massime in ulteriore lieve aumento. Di fatti avremo valori tra i 30 e i 32 gradi su buona parte delle principali città, gran caldo anche all'Aquila, fino a 29 gradi. Abbiamo segnalato la possibilità di qualche acquazione pomeridiano relegato ai monti, ma parliamo di fenomeni molto blandi e di breve durata. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.